Ciao ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Ora, Doctor Strange e il multiverso della follia. È un film che sta ancora nelle sale e quindi dovrò essere molto prudente per non fare spoiler. E sarà dura perché ci sono alcune cose che vorrei proprio dirvi, raccontarvi, e non posso perché sono cose che se ve le dico vi vado a raccontare buona parte di alcune meccaniche di questo film. Quindi faremo, come facciamo spesso, una divisione. Cioè, prima parte del video, facciamo spoiler free, vi racconto per sommi, capi, diciamo così, le mie sensazioni, vi racconto un po' l'impostazione del film senza scendere nei particolari. Poi vi avviso, ok, faccio spoiler come se piovesse, e poi andiamo alla parte spoiler. Però vi avviso, quindi, siete pronti. Non schippate il video in avanti, perché se vi ritrovate lì non è colpa mia, ok? Io avviso sempre prima. Allora, da dove iniziamo? Soprattutto da dove iniziamo cercando di non fare spoiler, che non è facilissimo a sto giro. Allora, Doctor Strange e il multiverso della follia. Io quando ho letto per la prima volta sto titolo, mentalmente l'ho tradotto. Il mio cervello fa a volte queste cose, no? Traduce. Multiverso della follia. Il mio cervello ha tradotto, Doctor Strange, ci hanno lavorato 15 sceleggiatori e non si sono neanche parlati. Io questo avevo immaginato. Fortunatamente la situazione è molto meno drammatica di quel che mi potessi aspettare all'inizio. Diciamo che questo Doctor Strange è un film che mantiene una certa coerenza con se stesso. E voi direte, vabbè, è normale. Quando scrivi una storia deve essere coerente con se stesso. Stiamo parlando dell'universo Marvel. Una storia che si regge su due gambe e che non crolla dopo il quindicesimo minuto è un miracolo. Con questo non sto dicendo che questo film sia un obelisco incrollabile di sceneggiatura. No, no. Ci sono molte cose che scricchiolano. Però per essere un film basato sul multiverso non ci sono troppe supercazzole, non ci sono troppe soluzioni di comodo. Cioè qui il multiverso non viene usato come un'arma di distruzione di massa dagli sceneggiatori. Semplicemente è uno stratagemma narrativo per mettere in campo situazioni particolari, per mostrarti realtà alternative. E visto e considerato che si tratta del Doctor Strange, ci sta. Ci può stare. Guardate, un film sul multiverso che io non reputo una vaccata completa è veramente una cosa difficile da trovare. Non so se sia a merito di Raimi, ma tant'è. Il film non l'ho trovato così indigeribile dal punto di vista narrativo. Sam Raimi. Allora, ho letto La Qualunque in giro. E ci torneremo anche dopo su questo Ho letto La Qualunque perché veramente su sto film ho sentito dire peste e corna oppure ho sentito ovazioni di amore, così. Ho sentito di dire di tutto. E io quando un film spacca così tanto il pubblico mi incuriosisco moltissimo. Ma non perché pensare che tanta gente ne parli bene significa che è brutto. Non perché pensare che tanta gente ne parli male significa che invece è bello. Quello è un atteggiamento radical chic che tendo a non avere. Però semplicemente, quando il pubblico è così spaccato, vuol dire in genere che il film prende una decisione molto precisa e quindi o lo ami o lo odi. E questa decisione, questo rigare dritto in una direzione, spesso è sinonimo di autorealità. No? E mi fa sempre piacere quando nei film di supereroi si riesce a vedere un po' di più una manina o comunque si riesce a vedere una direzione. Perché il pericolo quando si fanno un sacco di film collegati tra loro è che si perda proprio la caratterizzazione del singolo film. Si perda, ecco, l'unicità. Per fare tutta una serie di film tu devi stare dentro certi paletti. E Rhyme purtroppo non ha potuto lavorare in totale libertà. si è comunque dovuto infilare in un universo già avviato da un sacco di anni, è una roba decennale ormai e lui ci è entrato dentro a un certo punto a gamba tese non ha potuto fare il cazzo che ha voluto, peccato. Però diciamo che questo film presenta delle caratteristiche che molti altri film del Marvel Cinematic Universe non hanno. Dal punto di vista proprio della cifra stilistica di Rhyme molti hanno detto eh no, si vede tantissimo che l'ha girato Rhyme. io non credo che si veda così tanto o perlomeno si vede in maniera troppo smarcata. Cioè Rhyme ha girato sto film alla Rhyme ma l'ha fatto secondo me intenzionalmente. L'ha girato come l'avrei girato io se mi avessero detto gira Doctor Strange come lo farebbe Rhyme. Allora, che avrei fatto? Io che non sono Rhyme, non sono un grande regista che avrei fatto? Rhyme, Rhyme, vediamo, vediamo vabbè ci metto un po' di grandangoli molto molto spinti a cazzo di cane e così poi vediamo un po' Rhyme ah, un po' di stedicam così che vanno in giro poi che ci metto? E poi ci metto Bruce Camber che si piglia botte da sole gli faccio fare un cameo come farebbe Rhyme cioè proprio Rhyme ha fatto il cosplay di un regista che fa citazioni continue a Rhyme. per me Rhyme al cento per cento è Drag Me To Hell oltre ovviamente all'armata delle tenebre ok, però dico per me il Rhyme moderno che non si autocita ma che proprio fa quel cazzo che gli pare è Drag Me To Hell questo è un film in cui Rhyme l'ho visto si vede ma è talmente schietto e palese che sono soluzioni che adotterebbe Rhyme che ti fa venire da pensare oh, e come lo farebbero i Simpsons? e ogni tanto i Simpsons fanno degli omaggi e dei registi famosi come sarebbe questa cosa girata da questo ecco così l'avrebbero fatto così nei Simpsons quindi non so quanto si possa parlare di vera autorialità è più Rhyme che si diverte a fare il verso a se stesso mi è sembrato non so se anche a voi ha dato questa impressione però ecco ma il film non è girato male ragazzi è cioè queste cose sono messe bene sono contestualizzate bene queste riprese Steadicam sono fatte in situazioni in cui ci stanno non è che sono fatte a cazzo di cane anche questi grandangoloni sono piazzati bene con gusto non è una roba fatta in maniera becera chiariamoci però ecco è molto smaccato quello che mi è mi è piaciuto molto è stato il fatto che la violenza in questo film sia trattata in maniera un po' diversa dal resto del Marvel Cinematic Universe sapete in questi film il cattivone spesso fa esplodere qualcosa generalmente in un tripudio di lucine colorate e capita che ci siano delle vittime vittime che saltano in aria ma per quanto ne sappiamo ruzzolano qualche metro più in là con una ferita qui sopra il sopracciglio che poi quando ti alzi sei più figo di prima ecco queste sono le vittime nei film Marvel oppure c'è qualcuno che fa così e tutti si dissolvono beatamente questa è la morte nei film Marvel è raro vedere qualcuno che muore in maniera trucida e in questo film devo dire che ci sono un paio di morti che mi hanno davvero sorpreso mi ha sorpreso vedere Disney che dice vabbè sì la lasciamo nel montaggio mi ha sorpreso molto non so quanto si sia dovuto battere Raimi per lasciare quelle morti però mi ha sorpreso vedere il tasso di violenza salire o chiaramente hanno raggiunto un accordo e credo che l'accordo sia ok Sam puoi spezzare qualche collo puoi fare anche saltare in aria qualche testa però non devi far uscire neanche una goccia di sangue non ti permettere secondo me è andata così perché la violenza c'è sono anche abbastanza truculente certe morti ma non c'è una goccia di sangue neanche a pagarla quindi secondo me sono arrivati a questo accordo con Raimi voleva far saltare in aria tutti e loro che lo tenevano così per la giacca no ti prego non far saltare in aria la gente credo sia stata proprio questa la situazione comunque dai mi ha fatto piacere vedere che sia un altro qualche morte che ho avvertito come morte perché questo è un problema che ho grosso con i film di supereroi cioè io le morti non le sento e poi ci arriviamo nella parte spoiler le morti le tragedie non riesco più a prenderle come tali però devo stare zitto facciamo spoiler più tardi ok oh questo Doctor Strange girato così con questa cifra stilistica con questa ironia perché è un film molto ironico in tante cose e non sto parlando delle solite battutine che ogni tanto fanno in questi film no quella è quella è una cosa che te la danno da disciplinare ogni tanto ogni 15 minuti battutina così ridono in sala no qui l'ironia è molto più sottile e si attacca più alla cifra stilistica del film che alle battute della sceneggiatura è più una questione di tempi comici è più una questione di scelte esagerate ed esasperate che ti causano la risata o comunque il divertimento in questo ho visto tanto Raimi in questo sì non basta un grandangolo e due stedicambuttate così per fare Raimi questo è Raimi questa sensazione di sto guardando una cosa che troppo seria non è anche se magari mi fa storcere il naso anche se magari si parla di cose che fanno male però lo vedo che quello è un cazzone lo riconosco è lui è il cazzone Raimi capito è questo Doctor Strange se slegato da tutto se slegato da WandaVision se slegato da Endgame se slegato da tutto se preso come un film a sé stante se fosse stato totalmente autoconclusivo e non dipendente da altri media se fosse stato così sarebbe stato uno dei miei film preferiti di supereroi ed è proprio questa atmosfera ed è proprio questo modo di fare che vorrei in un film con un protagonista che fino a prova contraria si chiama Doctor Strange giusto? è quello poi è chiaro che se tu questo Doctor Strange con questo universo strano questo ecosistema molto particolare molto mistico me lo butti nel calderone di tutti gli altri che si danno calci in culo e lucine perde, perde molto l'ho detto tante volte in Infinity War Doctor Strange non è lui non ha il peso che dovrebbe avere invece in questo film lui lo ha però per fargli avere quel peso ci si deve quasi dimenticare di tutto il resto Rai mi ha fatto quasi una camera stagna intorno a Doctor Strange per farlo funzionare così bene e per far tornare in gioco certe sue prerogative certi suoi poteri certe sue abilità che vengono dimenticate ad hoc quando serve per motivi di sceneggiatura per fare andare le cose in un certo modo vabbè lo sappiamo come funziona quindi diciamo che Doctor Strange girato così credo che sia non dico la perfezione ma il prototipo di quello che io apprezzerei moltissimo come film di supereroe con tutto che è pienissimo di criticità di cose che non mi sono tornate di puttanate e poi ne parliamo però siamo lì mi ha mi ha soddisfatto abbastanza cioè non come la scena dell'incidente nel film Cientan con Mario Merola e Gigi D'Alessio ve la ricordate quella scena da domani non potrete fare a meno dovrete guardare questa scena almeno tre volte al giorno vi auguro di trovare questo film Cientan su una delle vostre piattaforme di streaming preferite perché così potete farvi il pieno tutti i giorni a proposito di streaming avrete capito che adesso parliamo un attimino di NordVPN perché oggi c'è una chicca allora mi hanno segnalato i ragazzi di NordVPN che c'è questa piattaforma che si chiama Pluto TV ed è una piattaforma gratuita cioè a ciclo continuo questi trasmettono film serie tv e ci sono anche molti contenuti on demand quindi clicchi e inizi a vedere quando vuoi oppure ti guardi la programmazione giornaliera come in televisione chiaramente usando NordVPN possiamo fare un'altra bella cosina cioè possiamo dislocarci ovunque nel mondo e avere accesso non solo al catalogo di noi italiani ma anche al catalogo di tantissimi altri paesi quindi possiamo farci un bel giro su tutte le piattaforme del mondo e guardare molti più contenuti comunque vi metto il link qua sotto in descrizione per accedere a NordVPN anche con uno sconto attenzione perché alla fine di questo conto alla rovescia io comincio a fare spoiler e non guardo in faccia a nessuno raga parliamo pure del finale pronti? dunque 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 in questo film ci sono tante cose che conosciamo già Dr. Strange tutto il suo ecosistema ci sono riferimenti ad Endgame al fatto che il mondo sia stato dimezzato per cinque anni sono tante cose che abbiamo già visto in passato ma il riferimento più grosso più corposo è a Vandavision ok? perché in questo film in realtà non c'è un villain cioè sì c'è un villain ma non puoi volerle male perché è Vandamaksimov alla quale sei anche abbastanza affezionato quindi se vogliamo dirla in maniera un po' romantichella questo è un film che si fa tutto in famiglia tra persone che sono amiche e una di queste persone è in crisi certo Vandamaksimov so già due volte che è in crisi perché Vandavision è tutto basato su una crisi di Vandamaksimov che va a ricrearsi un universo fittizio prendendo in ostaggio non so quante persone per riportare anche se virtualmente ma molto tangibilmente invita il suo visione ok? in questo film succede più o meno la stessa cosa lei sbrocca malissimo e quindi cerca di uccidere questa ragazzina che ha il potere di viaggiare nel multiverso quindi da universo a universo e ci sta ci sta che Vandamaksimov sia di nuovo incazzata anche se ormai pare che questa faccia soltanto stronzate insomma è sempre quella che crea danni che fa casini ora vi dico la prima cosa che mi ha lasciato molto perplesso Vandavision si basa sul fatto che a Vandam manca tantissimo visione e quindi crea questa realtà proprio per stare con lui in questo film invece visione proprio non viene quasi mai nominato quasi mai un paio di volte in questo film lei è terribilmente attaccata ai suoi figli figli che in altri universi Vandam è riuscita a tenersi è riuscita ad avere no? per questo lei vuole la ragazzina che viaggia nei multiversi vuole il suo potere perché vuole impadronirsi di un'altra se stessa per poter stare con dei figli che non sono i suoi sostanzialmente ecco è molto strano che non si parli di visione cioè si parla solo del frutto dell'amore tra questi due dei figli ma non si parla mai di visione è strano ed è una scelta narrativa particolare mi domando a cosa sia dovuta questa scelta narrativa questa sì scelta artistica Paul Bettany non è più sotto contratto con i Marvel Studios ok ora dovete capire una cosa nel grande universo Marvel le idee contano pochissimo quello che conta sono i contratti i contratti volete sapere quale personaggio morirà? non c'è bisogno di andare nelle pagine nei forum i personaggi che muoiono sono quelli cui i contratti finiscono i personaggi che muoiono sono quelli troppo vecchi per continuare a stare nel ruolo quelli muoiono tutti gli altri sono immortali ed è questa la cosa che detesto di più in tutto il Marvel Cinematic Universe cioè quella che una volta era la plot armor cioè l'armatura che certi personaggi hanno perché sono i protagonisti perché sono i buoni e non possono morire non c'è più qui non è la plot armor qui l'armatura è contrattuale cioè se un personaggio sparisce non è perché è morto ma Visione è morto davvero Siner quanti personaggi sarebbero dovuti morire e sono tornati più forti di prima più numerosi di prima con un'altra faccia quanti tantissimi perché Visione non torna perché il suo contratto è scaduto scommettete scommettete che appena questo qui riesce a firmare di nuovo con Marvel torna Visione magicamente scommettete ecco quindi questa è la prima cosa che mi ha fatto proprio storcere il naso fortissimo che cazzo mi racconti a fare per un'intera stagione che questa sta fuori di testa come un balcone perché non c'ha più visione e poi qui lui praticamente è un fantasma l'unica cosa che lei dice è eh gli ho sparato in testa basta gli ho fracassato il cranio mi ricordo che cazzo dice mi sa che non è che gli spara però gli fracassa il cranio non ricordo neanche in che modo tecnicamente però parlava di ovviamente non di questo film ma di un'altra cosa di WandaVision quindi raga boh boh alla fine del film Wanda Maximo cioè Scarlett Witch in realtà muore lei muore pensate che io sia preoccupato pensate che io creda anche soltanto vagamente che non rivedrò mai più Wanda Maximo ma chiaro che non è così ormai hanno aperto il vaso di Pandora con questo film con questo film hanno detto in moltiverso c'è e vi abbiamo creato anche una supereroina che viaggia dove cazzo le pare tra universo e universo preparatevi a personaggi che non muoiono mai preparatevi a cattivi che tornano questi potranno menare lo stesso cattivo anche 20 volte preparatevi a tutta una serie di soluzioni da mal di testa che da questo momento in poi imperverseranno in qualsiasi pellicola del Marvel Cinematic Universe qualsiasi perché una volta che tu accetti la presenza dei multiversi e accetti che i personaggi possono muoversi da questo universo a questo universo tu puoi scrivere quel cazzo che ti pare gli sceneggiatori hanno per le mani l'arma più pericolosa cioè l'arma della pigrizia assoluta non vedremo più un intreccio intelligente non vedremo più un colpo di scena lo spettatore sa già che qualsiasi cosa può essere ribaltata in qualsiasi momento e se una volta guardando Endgame potevamo gridare ooooh vedendo degli squarci nel nulla da cui escono supereroi che credevamo morti adesso sarà la prassi la norma quindi già prima io non riuscivo a prendere la morte di un personaggio o un personaggio in pericolo che tribola contro l'ennemia non riuscivo a prendere seriamente queste cose adesso non ci riuscirà nessuno neanche il più appassionato starà lì col cuore in mano oddio oddio il mio eroe sta perdendo nooo saranno tutti qua con i pop corn tornerà in vita tanto che schifo cazzo cioè no 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 io mi aspettavo speravo che alla fine del film succedesse qualcosa e questa bambina de merda che viaggia nei multiversi dicesse no è pericoloso viaggiare tra i multiversi mi taglio le vene così la facciamo finita e chiude sti buchi da cui tutti i morti tornano in vita eeeh non è andata così anzi il film finisce in maniera totalmente aperta in quella direzione totalmente destra sinistra multiversi dappertutto tutti vidi morti tutti cose carine ci sono state Raimi ci mette un tocco di esoterismo sicuramente un po' più marcato rispetto al solito e ci mette le anime dannate le anime dei morti ci mette dottor strange zombie e quella cosa è super citazionista dall'armata delle tenebre addirittura anche la faccia bucata che lascia vedere la mandibola sotto cioè proprio sembra di guardare quel tipo di rappresentazione lì anche con un trucco che non è assolutamente credibile cioè Benedetto Camberbaccio se ne va in giro con questo faccione di gomma palesamente di gomma truccato in maniera molto dozzinale e credo sia stato fatto apposta perché fare un trucco vero da morto putrefatto non sarebbe stato gradito a Disney però insomma ci ha messo le anime dei morti cioè alla fine dottor strange zombie tutto quanto putrefatto se ne va in giro con queste ali fatte di anime di morti a certo punto non si sono regolati ci hanno messo dentro qualsiasi stronzata gli venisse in mente io ho anche gradito ho anche gradito però ero così nervosito da questo utilizzo comodo e opportunistico del multiverso che non mi sono riuscito a godere il film appieno poi la morte di Wanda alla fine mamma mia cioè muore Wanda che è un personaggio che tutti hanno amato nel Marvel Cinema di Junior lei muore non te ne frega un cazzo perché lei muore ma ti fanno vedere che negli altri universi lei è viva se la gode cioè ormai ci sono buchi dappertutto chiunque può andare da qualsiasi paolo quindi hanno tolto buona parte della sfera emozionale di un film soprattutto se è un film fantastico d'azione in cui vuoi sapere chi si salva chi no niente ormai non esiste più nulla e sono molto curioso di vedere dove andranno a parare con i prossimi film perché sarà veramente difficile con queste premesse fare una storia che si regga in piedi senza rompere la trama stessa e il tessuto della storia ogni 5 minuti per colpa di questi multiversi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo Doctor Strange e noi ci vediamo al prossimo video ah 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 fermi una cosina alla fine ve la devo dire ho goduto come un pazzo quando ho visto la morte di uno dei supereroi della realtà alternativa l'uomo forchetta un diapason qua sopra in testa uccide i nemici con le vibrazioni scarlet witch gli tappa la bocca e poi gli fa saltare in aria la testa credo che se la faccia saltare da solo tentando di attaccarla con le vibrazioni gli salta in aria la testa ed è forse la scena più truculenta del film con questo bozzo che gli si crea qua dietro gli occhi iniettati di sangue non mi aspettavo di vedere una cosa così ne voglio di più ne voglio di più traumatizzerai i bambini non lo so non credo fatele ste cose che cazzo noi guardavamo Kenshiro e loro vedono le teste che esplodono nei film diretti da Raimi